Ciao a tutti, volevamo presentarvi e spiegarvi del dettaglio un prodotto di styling che è il Twist & Go, molto particolare ed efficace. Il principio attivo di questo prodotto è la moringa oleifera, che viene prodotta da una pianta che cresce nella zona emalaiana dell'India, riesce a raggiungere fino ai 10 metri di altezza e in queste zone è considerata sacra. I semi di questa pianta producono un olio molto leggero ed è per questo che non risulta appiccicoso. È ricco di vitamina A e di vitamina C e di proteine ed è per questo che rende il capello più forte ed elastico. La consistenza è molto morbida, leggera e vellutata. L'olio di moringa dona al prodotto la tipica colorazione ambrata. Ora vi mostreremo come si applica. È molto importante applicarlo a capelli fradici, distribuendo il prodotto dalla radice alle punte. In seguito effettuiamo lo scrunch, inizialmente con le mani e poi con un panno in microfibra. Procediamo poi con l'asciugatura, senza mai toccare i capelli. Una volta ben asciugati, massaggiarli con le mani. Grazie. Grazie a tutti.